Con 82 milioni di euro destinati al finanziamento di piani formativi a costo zero attraverso avvisi pubblici rivolti alle aziende aderenti, Fondo 4T è al fianco delle imprese pugliesi che intendono investire sulla crescita. Oltre agli strumenti che consentono alle aziende di realizzare una formazione su misura per i propri dipendenti, il Fondo quest'anno introduce due grandi novità che riguardano il finanziamento di percorsi formativi dedicati all'innovazione tecnologica e al comparto socio-sanitario. Assolutamente sì, non sono solo 82 milioni, perché 82 milioni sono le somme che abbiamo deliberato nell'anno 2018, ma arrivano a 134 milioni con le somme che sono state deliberate anche nel 2017. Molte aziende non sanno che versano ogni mese lo 0,30% della massa salariale all'Inps. Se si iscrivono ad un fondo interprofessionale come Fondo Forte, possono riutilizzare queste somme per fare formazione continua. Tante, infatti, le aziende presenti a Bari per assistere alla tappa pugliese dell'evento Tieniti 4T Roadshow, che racconta in maniera appassionante i vantaggi reali della formazione continua e delle opportunità offerte dal fondo, attraverso un viaggio multimediale alla riscoperta dei valori, della motivazione e dell'emozione di far crescere le imprese. Secondo me, innanzitutto, hanno bisogno di consapevolezza di quanto è importante la formazione, perché infatti noi stiamo facendo questo Roadshow, che è un progetto che io ho sposato, perché ci sono proprio tanti imprenditori che non sanno, per esempio, che danno dei soldi all'Inps tutti i mesi e che questi soldi possono essere utilizzati per la formazione continua. Sono tanti che non lo sanno e quindi noi siamo qui proprio per, innanzitutto, mettere le persone a conoscenza e poi dopo, anche attraverso il nostro format, di motivarli. All'incontro, animato da Anthony Smith, business coach e speaker motivazionale internazionale, hanno preso parte anche Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, ma anche Alessandro Ambrosi, presidente della Camera di Commercio di Bari, nonché presidente di Nuova Fiera del Levante, vicepresidente nazionale di Confcommercio, ma anche Paolo Arena, presidente del Fondo Forti e Eleonora Pisicchio, direttore generale del Fondo Forti. Secondo i dati Ampal del 2016-2017, l'Italia continua ad essere sotto la media dell'Unione Europea per numero di partecipanti alla formazione continua, contando una percentuale dell'8,3% sulla popolazione adulta tra i 25 e i 64 anni, rispetto alla media europea del 10,8%. Nel panorama nazionale sull'utilizzo dei fondi interprofessionali per la formazione continua, la Puglia si pone all'ottavo posto, con il 3,6% dei piani formativi approvati. Investire sul capitale umano per paesi come l'Italia, senza risorse naturali, senza un sistema industriale paragonabile a quello dell'India, del Pakistan, della Russia, della Cina o degli Stati Uniti, è una delle possibilità. Naturalmente l'Italia, quando arriva a concepire una buona idea, poi di solito nella concreta attuazione svuota quell'idea, non coltivando in coerenza le proprie azioni. E quindi è successo che molto danaro sia stato sottratto al sistema della formazione e quella poca formazione che si fa spesso non è attinente alle esigenze reali delle imprese, dei comuni e in generale del paese.